Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad io sono Federico oggi 31 ottobre 2021 bitcoin 60.500 dollari quindi ragazzi guardiamo la situazione ci avviciniamo a distanza di poche ore della chiusura mensili del mese di ottobre guardiamo insieme come arriviamo a questa chiusura guardiamo più nel dettaglio come si sta muovendo il prezzo di bitcoin parliamo dei livelli dello stock to flow quindi il modello inventato da plan b e poi ragazzi parliamo di altcoin guardiamo shiba inu e anche litecoin quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri messaggi ragazzi qui siamo su bitcoin bitstamp time frame mensile quindi ogni candela rappresenta l'andamento di bitcoin all'interno di un mese siamo a poche ore di distanza dalla chiusura del mese di ottobre un mese molto molto rialzista e in questo momento ragazzi siamo ben al di sopra della chiusura più alta della storia di bitcoin mensile quindi se guardiamo questa chart vediamo che la chiusura più alta mensile per bitcoin è stata marzo scorso a 58.700 dollari all'incirca quindi in questo momento siamo qualche punto percentuali al di sopra di quel livello e questo è di solito uno scenario quindi aggiornare la chiusura mensile più alta della sua storia dopo un ritracciamento è solitamente uno scenario che scatena una fase rialzista quindi vediamo se riusciremo a fatto salvo sorprese a chiudere il mese al di sopra di 58.700 dollari poi ragazzi domani guardiamo insieme i livelli che saranno rilevanti per il mese di novembre qui ragazzi invece guardiamo più nel dettaglio siamo nel time frame delle 6 ore e come vediamo c'è plausibilmente bitcoin si muoveva all'interno di questo polling wedge quindi una formazione che vede nella maggior parte dei casi la violazione della resistenza verso l'alto ed eventualmente un ritest della stessa in supporto quindi può essere in questo momento che una volta usciti da questa resistenza stiamo proprio adesso ritestando lo stesso livello quindi i 60.500 come punto di supporto quindi un flip supporto e resistenza bitcoin non è per nulla nuovo a questo tipo di formazione per esempio anche qui era lo scorso settembre avevamo un falling wedge con poi una uscita anche qua dal livello di resistenza non c'è stato questa volta invece un ritest del supporto quindi una fase di consolidamento una sorta di bull flag eventualmente in attesa del prossimo impulso rialzista vi ricordo che entriamo nel mese di novembre al di sopra del livello p che sta a 57.500 e la previsione di plan b per il mese di novembre è addirittura di arrivare in zona 100.000 dollari quindi 98.000 dollari per la fine del mese a proposito di plan b ragazzi questi sono i livelli dello stock to flow lo trovate su trading view questo indicatore se cercate stock to flow price levels dovreste trovarlo io ve lo scrivo comunque nei commenti cosa dovete scrivere esattamente questi livelli rappresentano diciamo i livelli dello stock to flow in quale senso abbiamo la linea bianca che rappresenta il prezzo che bitcoin dovrebbe avere in questo momento sulla base dello stock to flow quindi il rapporto che c'è tra i bitcoin in circolazione e quelli che vengono minati con il mining ogni 10 minuti in questo momento il prezzo di bitcoin dovrebbe essere a 82.160 dollari sulla base dello stock to flow quindi se il prezzo di bitcoin si trova al di sotto dello stock to flow o magari anche al di sotto di questa linea azzurra che rappresenta questo livello quindi lo stock to flow moltiplicato per 0.61 o eventualmente questa che rappresenta lo stock to flow moltiplicato per 0.5 vuol dire che siamo probabilmente nel lungo termine in una fase in una fase che rappresenta una buona opportunità di acquisto in termini di rapporto rischio rendimento ovviamente se crediamo nella teoria dello stock to flow quindi in questa fase che eravamo bene al di sotto non solo dello stock to flow ma anche di entrambe le due linee che rappresentano i livelli inferiori è stata con il seno di poi un'ottima opportunità di acquisto comprare bitcoin interno ai 30 35.000 semplicemente adesso che siamo a 60.500 dollari invece ragazzi questo livello qua sopra invece rappresenta il top sulla base dello stock to flow un simpaticissimo 300.000 dollari in questo momento e se ragazzi guardiamo come si è comportato questo indicatore in passato vediamo che ogni volta che il prezzo si trovava al di sotto dello stock to flow tendenzialmente nel lungo termine è stata una buona opportunità di acquisto ma soprattutto nel top del 2017 vediamo chiaramente che il prezzo è arrivato nel top proprio in corrispondenza della parte più alta di questo indicatore che in quel caso era intorno ai 20.000 dollari e successivamente siamo ritornati in zona stock to flow intorno ai 6.000 e il bottom del bear market è arrivato quando il prezzo è sceso tra quella azzurra e quella verde quindi prossimità dei livelli inferiori dello stock to flow vi ricordo stock to flow quella bianca 05 e 061 e 05 quella verde quindi come usare questo indicatore quando siamo tra queste due linee tendenzialmente ottima opportunità di acquisto quando siamo sopra lo stock to flow già a prendere profitti più ci avviciniamo al livello rosso più è forse opportuno uscire completamente dalla propria posizione perché probabilmente ci sarà un importante storno stiamo a vedere se nei prossimi mesi o nelle prossime settimane questo indicatore sarà in grado di predire correttamente addirittura l'arrivo del top del ciclo per bitcoin ragazzi passiamo alle altcoin questa è la chart impressionante di shiba inu abbiamo visto una fase di consolidamento molto lunga che è durata praticamente tutti i mesi estivi c'è stato una prima salita durata i primi giorni di ottobre una fase di consolidamento quindi una bull flag che è durata da inizio ottobre fino a il 20 ottobre una seconda fase bullish ed eventualmente una seconda bull flag quindi una fase di consolidamento all'interno di un livello di supporto e di resistenza con una successiva esplosione anche in questo caso potremmo vedere effettivamente una fase di consolidamento e una seconda esplosione per shiba inu magari eventualmente intorno a metà novembre quindi sarà importante vedere se shiba mantiene il questi livelli queste trend line come livelli di supporto e di resistenza se utilizziamo i livelli di fibonacci vediamo che dal da questo dall'inizio dell'impulso fino al primo top abbiamo utilizzato come supporto il livello dello 05 guardate qui non scendiamo sotto il livello dello 05 con la seconda salita stessa cosa per cui anche qui non siamo per adesso scesi sotto il livello dello 05 quindi anche in questo caso potremmo fermare una bull flag una fase di consolidamento molto simile a quanto abbiamo già visto già nel mese di ottobre quindi seguiamo queste linee queste trend line di supporto e di resistenza per poi vedere se ci sarà un altro breakout di shiba inu in ultimo ragazzi guardiamo la chart di litecoin e c'è una io credo che litecoin siamo ancora molto lontani dai precedenti all time i di litecoin credo che molte altcoin che ancora non hanno rivisitato i precedenti all time i lo faranno eventualmente se bitcoin dovesse salire nei mesi successivi e in particolare litecoin ragazzi abbiamo una lunghissima divergenza rialzista questa è la chart che paragona litecoin contro bitcoin vedete che abbiamo il prezzo che di litecoin che continua a scendere questa è la chart ragazzi delle due settimane quindi praticamente da settembre 2019 fino adesso il rapporto tra litecoin e bitcoin è sempre andato a sfavore di litecoin mentre abbiamo una lunghissima divergenza rialzista sulla resi quindi la resi continua a fare invece minimi che sono uno tra loro più alto dell'altro vedete qui uno due e tre minimi mentre il prezzo continua a scendere io credo che questa divergenza spiegherà prima o poi i suoi effetti con una esplosione di litecoin contro bitcoin quindi ragazzi per oggi è tutto vi ringrazio per la vostra attenzione fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao